Ma buonasera, buonasera Fere! Oggi dobbiamo fare una roba molto divertente Dobbiamo fare la What's in the Box su Minecraft Va bene Ma è impossibile fare la What's in the Box Non possiamo toccare gli oggetti per capire che cosa sono E invece, in un modo un po' contorto, possiamo farlo Abbiamo due bellissime ceste Ne abbiamo una destra e una sinistra Tu dovrai aprire soltanto quella di destra Vedere l'oggetto che c'è dentro E c'è un letto Automaticamente dovrai riuscire a capire quali oggetti ci saranno nella cesta di sinistra Quindi, se il letto si crafta con della lana e del legno Qui avremo della lana e del legno E' molto simpatico ma è anche abbastanza difficile Perché ricordarsi il crafting di tutto 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 è super complicato E ovviamente sarà una volta a testa Quindi una volta metti un oggetto tu, una volta lo metto io Sei pronta? Sì! E ragazzi, come va? Io sono Ferinich E sono Stef E che si giochiamo a Minecraft Benvenuti in un nuovissimo episodio di Minecraft In cui proveremo a fare la What's in the Box Challenge Sfida famosissima che abbiamo deciso di riadattare qui su Minecraft E che faremo anche nel secondo canale Esatto, sì, la faremo anche nel secondo canale Quella del vivo Nella vita reale Nel modo più normale possibile Però la volevamo fare anche in questo canale E quindi abbiamo pensato a questa idea abbastanza simpatica per provarci Ovviamente è una sfida Stef vs Fere Quindi abbiamo dei punti da contare E funzionerà così Una volta metto io un oggetto nella cesta di destra E una volta lo farà Fere Ok Chi indovina di più ovviamente vince Allora Fere, io ne ho già messo uno Vai a vedere, sono stato gentile Perché siamo comunque agli inizi Ed è ovviamente un oa in pietra Quindi dimmi un pochettino quali materiali ci saranno dentro questa cesta Vediamo se li indovini Allora, sei stato gentile all'inizio Perché comunque sai che io faccio totalmente stifo nel crafting Non mi ricordo nulla Quindi devo far fare bella figura Allora, due stick E due di stone Esattamente E infatti se tu apri la cesta Ti ho messo anche la forma del crafting così tanto per Ok, so come si fanno almeno le cose vanno Quelle, sì, me lo ricordo Ok, ha fatto signorina? Sì, ho fatto, ho fatto Allora, anch'io ho scelto un oggetto abbastanza semplice Non dovresti avere problemi Ok Però è semplice ma non semplicissimo secondo me Ah, subito così Perché può essere facile sbagliare secondo me Non lo so Ok, allora Ti ricordi? Sei blocchi di legno messi in Cioè, ta, 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 ta Giusto? Sì, sì, sì Ah, devo dire anche la posizione o basta dire i blocchi? Perché mi stai confondendo Io ti dirò solo quello che c'è Perché cosa c'è nella scatola Non come sono messo Infatti volevo fare il figo, Ferra Giusto per dimostrarti che non solo me lo ricordavo Ma anche esattamente come si mettono Capisci? Era giusto per farti vedere che qua Steph non perderà facilmente la vostra in the box Capito? Mettiti il tuo punto e muoviti Allora, il mio punto lo devo mettere qua Adesso ci allontaniamo da Ferra Perché altrimenti ci spia E scegliamo Ma fallo qui Mi giro da un'altra parte Che bisogna cercare di cambiare Scegliamo un oggetto Lei ha deciso di andare su una roba già un minimo più complessa No, l'ho già perso, Steph Allora, non vale però fare la tragedia greca tutto il tempo Guardi pure, signorina Guardi pure, sì, sì, sì Sono stata abbastanza gentile Però comunque bisogna stare un po' attenti con questo Oh cavolo, non lo so, Steph Per le cose non sai Dai che lo sai Allora, ci vuole la legna normale, no? È fin lì, sì È bassa Eh, ma quanta? Eh, aspetta Fammi pensare Concentrati Secondo me Abbiamo fatto duemila cose In cui dovevamo fare slab per risparmiare dei blocchi E le hai craftate anche tu Quindi te le devi ricordare Esatto, ma quello è il problema Che io le cose le faccio Ma poi ho problemi mentali Capisci, Steph? Solo quello Quello sto cercando di dire da due ore Allora Tre Giù Sotto Messe in In orizzontale Brava Sì, sì Guarda Apri la cesta Messe di così Le puoi mettere in realtà in tutti Però comunque ci siamo Ok Mettiti il tuo secondo punto Ce l'hai fatta Brava Stavo già sudando freddo, eh Non so seria Infatti ti ho messo una roba Che semplice Ma che tricchi Mi ricordo comunque a grandi linee Ma poi la precisione che ti frega Capisci? La precisione Pensa quando passiamo alle cose complesse Cara Infatti Ma devo iniziare a farti qualcosa di complesso Oppure no? Cerca di seguire la mia difficoltà Ok Quindi adesso un semplice Però un po' tricchi Di quelli che ti possono confondere Fatto, Steph Ok Allora Questo oggetto Secondo me Se te lo ricordi È semplicissimo Ma se non te lo ricordi Alla perfezione Può essere un po' Un po' complicato Ti può trarre un po' L'inganno Non lo so Vedi tu Se te lo ricordi bene Se non no Però è semplice come si fa E non è niente di troppo complicato Quindi dovresti farcela Allora Io dico la verità Ho dovuto riguardare come si crappata Perché non lo ricordavo Devi sapere la parte divertente di tutto questo Che anche tu hai scelto quello Io avevo già messo nella mia barra Il prossimo oggetto Guarda la mia barra Dai però Finisce già anche come si No in realtà Anche io avevo un dubbio Che dovevo ricontrollare Io l'ho ricontrollato Perché tra l'altro Me l'ha messo dei dubbi Ho un dubbio per colpa del secchiello Ok Perché Ah perché anche il secchiello È molto simile Come si crapta Quindi ho il dubbio Se queste le shears Sono con solo due di ferro Messo a ta e ta Oppure se anche quelle Tre però Con la forma opposta Diciamo al secchiello Mi sta lasciando un dubbio incredibile Ma io voto per due blocchi di ferro Ok Guardate la scatola Meno male Meno male Meno male Ti ho detto Se te lo ricordi Però io ora lo sapevo Quando ho messo le cesoie Ho detto Vuoi vedere che adesso È uguale al prossimo oggetto Che ha scelto Perché facciamo sempre Le stesse cose Siamo troppo in simbiosi Dobbiamo smetterla Dobbiamo smetterla Allora Mettiti il tuo punto Mi dispiace dirtelo Ma adesso si passa A cose un po' più serie Io questo Mi aspettavo un po' da te Infatti ero preparata Allora Se la sbaglio Se la sbaglio Io ne ho già in mente di cattivissime Allora No no Non è che parti Se sbagli una cosa La dimenti cattiva No certo Non funziona così Ma le faccio sempre più cattive Per farti perdere Mi sembra l'unico Ma non funziona Poi divento più cattiva anche io E teniamo il pareggio E sarà una serie di cattività infinita Finché uno Non riesce a ricordarsene una A quel punto è la fine E a quel punto si smette E si fa pace Ok Allora Puoi guardare già quella di destra Eh vabbè però Steph Dimmi Io con le cesoie Un po' ti ho messo in difficoltà Eh anche questo Non è semplicissimo Massima Flint and steel Chissà cosa ci vorrà Eh lo so Però Ti ricordi anche come si deve mettere Per farlo Quanti ne servono È perché sono lì le cose In cui ti possono dire dei dubbi Allora fammi ci pensare un attimino È perché sì Lì ti metto il dubbio È perché Cosa c'è dentro Ok Però Secondo me uno è uno Ok Perché non mi sembra Che ce ne vogliano più di uno Ok quindi un flint e un iron Esatto uno di iron Giustamente Ok Qua Qua Sì Oh no Credo sia così Però Tanto la posizione La dovevi indovinare Quindi comunque ce l'hai fatta Giusto come l'ho messo Sì era verso sopra Però tanto Dovevi indovinare Sì tanto cosa c'era dentro Quindi No infatti Ce l'hai fatta Infatti l'ho comunque sbagliata Quindi vabbè la posizione Beh a me si mette al suo punto Forza 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 Ne voglio una un po' complessa io adesso Molto complessa o poco complessa? No un po' complessa ho detto Ok Non andiamo già molto Che qua mi viene l'ansia altrimenti Pronto Steph? Pronto Ok Guarda la scatola Ti ricordi? Fatti un po' zitta Dalmeno i materiali secondo me li sai È la posizione che frega Perché anch'io non me la ricordavo bene Allora Te l'ho detto Anche questa l'ho dovuta guardare Non me la ricordavo di preciso Polvere da sparo di sicuro Esatto Ok Quindi uno l'hai azzeccato e l'altro Ti accende con la flint and steel No ma non devi dire Non devi dire l'utilità del blocco Steph Allora la TNT ragioniamo Perché io non la crafto mai la TNT Cioè o sei in una cosa dove ce l'hai già e la usi a muzzo Oppure nella vanilla è abbastanza complessa da fare Quindi non te la fai Quindi polvere da sparo più sabbia Sì Ok Adesso devi azzeccare la posizione Che poi vabbè non è Non tanto la posizione La quantità Esatto Perché devi azzeccare la posizione Mi interessa poco al momento È la quantità Diciamo che è un bonus Azzeccare la posizione Allora Aspetta fammeli ricontare a me Perché non so Penso che sia Ok sì ci sono Ci sono Sto rischiando il mio punto Sto rischiando il mio punto Accider bolina Allora Allora Ragiona Steph Ragiona Steph Ce la possiamo fare Secondo me Tre di sabbia E due di polvere da sparo No Non ci sei Fammi vedere E vabbè E vabbè Quattro di sabbia E cinque di polvere da sparo Non mi ricordavo proprio No questa non la so Penso di non averla mai craftata in vita mia Mi dispiace E lo so bene Perché nelle vanilla la craftavo sempre io Quindi ero più che sicuro Che tu non ti ricordi Allora Puoi riuscire ad arrivare Almeno ai materiali Poi magari mi sbagli il numero Ma i materiali è facile Dai Cos'è quella roba rossa E cos'è la roba intorno E ce la puoi fare Allora Come on Iron ci deve stare per forza Sì Ok E il rosso cosa può essere Redstone Esatto Perché funziona Per forza Ci siamo Ci siamo Adesso Ce ne sono altri No Puoi provare ad azzeccarmi il numero Un po' sparando E vediamo se ce la fai Allora Fammi Fammi pensare Sì sì Ti lascio pensare Quanto vuoi cara mia Secondo me Io vado totalmente a casaccio Ok No aspetta Però sono indecisa Se dire Ragiona anche sulla forma Della bussola Infatti sono con l'inventario aperto Cercando di ragionare Sulla forma Ok E sono indecisa Se la forma è fatta così Quindi con tre di così Ok Oppure così Ok Perché molte volte le forme Non hai capito Vai Ascolta Prova a dire Tre di ferro E uno di redstone Quattro Cavolo Fammi vedere la forma Vai a prendere la cesta No ma ricordavo proprio Però c'ero Vedi Perché più o meno Dovevi pensare Che il cerchio In un quadrato È fatto così Avevo pensato Questa forma Mi mancava solo Quello di sopra Dai non è andata così male Quindi accetto Comunque la sconfitta Ok Allora Quindi siamo rimasti Tra due Adesso tocca a te So che ti vendicherai tantissimo Infatti io non so Se recupererò mai il punto perso Perché tanto Ferra adesso diventa Sempre più cattiva Ma vabbè Non è che è sempre più cattiva È che ormai Arrivati a questo punto Non è che puoi fare Capito Una spada Io ti volevo mettere La porta delle fence E mi hai fatto cambiare Perché me l'avevi messa Cattiva con la TNT Ma non era troppo cattiva Sì che era cattiva la TNT Era cattivissima E tu lo sai bene Questa è cattiva Perché è abbastanza recente Per logica Comunque c'è la legna Quindi suppongo L'ho anche il blocco Trasformato Ok Sì Le pranks E l'iron E l'iron Esatto E basta Esatto E si metteranno A forma di scudo Ovviamente Certo Infatti mi dica Dato che è ovvio Quanti blocchi Ci sono Allora Secondo me Sì Beh sì Sono d'accordo Hai ragione Sono indecisa Allora Se praticamente Seguire la forma Dello shield Oppure no Ricorda la forma di uno shield Il crafting No Sinceramente Allora io direi Cioè in realtà Tre di ferro e tre di legno No Infila così Allora sei di ferro e tre di legno Uno solo di ferro e sei di legno Ma non è neanche la Allora Secondo me Allora Se poi metti Anzi dovrebbero essere queste qua Perché sono al bordo Capisci Secondo me Allora Allora tu guarda bene Stai ferma Non riesco più a rimettere cosa a posto Ok Se tu guardi lo shield Cioè alla forma dello shield Ma non di quello che crafti su minecraft Perché alla forma dello shield Quello che è abbastanza spigolato Classico da medioevo Ma non è vero Ma non è vero Il discorso è che non c'ha un pezzetto di ferro così Vabbè Comunque Era abbastanza tricky Perché è roba nuova E la roba nuova è difficile da ricordare Comunque ha vinto a ferro di uno Speriamo che il video vi sia piaciuto Fateci sapere se lo vorreste rivedere Con gli oggetti ancora più complessi Per vederci fare zero punti a testa E ci fermiamo così Ma ragazzi Lasciateci un like E se la prima volta Questo nostro video potete considerarli Da iscrivervi Per non perdervi gli altri episodi Ciao E alla prossima Ciao 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 Grazie.